Più che il test di un'alleanza, io vedo questa come un'opportunità per tutti i calabresi qui presenti. È per questo che ci abbiamo messo la faccia e per questo io sono qui. E lo stesso dicasi anche per Enrico Letta. A dirlo Giuseppe Conte nella sua prima tappa in Calabria a Corigliano Rossano per il suo tour elettorale a sostegno della candidata Amalia Bruni ed ovviamente per dare la carica ai suoi. Noi crediamo che ai calabresi occorra offrire una prospettiva alternativa rispetto al governo regionale che c'è stato e riteniamo che questa prospettiva debba essere concreta. Sono già stato qui da Presidente del Consiglio più volte, ha aggiunto Conte, e ho dedicato molta attenzione perché è tra le aree del sud più dimenticate, più emarginate dal piano della politica nazionale ed è per questo che il riscatto può partire e deve ripartire dalla Calabria. Non permetteremo che nessun euro destinato al sud sia deviato al nord. Stiamo costruendo un progetto paese. Il Movimento 5 Stelle si è completamente rinnovato e occorrerà del tempo per dispiegare a pieno questo nuovo corso, questo rinnovamento, e continueremo il dialogo con il PD al di là dei risultati. Parlando delle vaccinazioni, Conte ha rimarcato il vaccino salva le vite e siccome adesso siamo in una fase in cui la stragrande maggioranza della popolazione risulta vaccinata, noi dobbiamo riappropriarci delle nostre vite. Quindi ripartiamo in modo pieno anche con la cultura, con lo spettacolo e con gli eventi sportivi, oltre che con le attività economiche. Adesso possiamo farlo e dobbiamo farlo. Dobbiamo ripristinare un senso di normalità perché i cittadini hanno fatto tanto sacrificio. Quindi la politica deve rispondere per fare ripartire tutte queste attività.